Il comune de Carzan se trova a metà Valsugana, posta sul pendio della montagna de Musiera, proprio in medo al conoide formato al torrente Maso e dal seggio. La sua storia la ricalca in generale quella dei altri paesi Valsuganotti, na terra conquistada i Romani e traversada la Via Paulina, na diramazion della Claudia Augusta Altinate. Del Medioevo la fava parte del Principato Vescovile de Feltre, parché il confin con quel de Trento il passava nei dintorni de Novaledo. Durante la Prima Guerra il paese le sta pressoché distrutto e resta in pie solo d'otre case. Carzan le veniu a trovarsi proprio a ridosso del confin italo-austriaco che il passava lungo il Maso, tanto che la gente incontrandose de mattina la si domandava, in cui «Sonti todeschi o sonti italiani?» perché passava in perlustrazione pattuglie sia dei uni che dei altri. È diventata famosa la Battaglia dei Carzan del disdoto de settembre del 1917. Il territorio del comune è la gran estensione proprio modesta e le posta lungo la sponda destra del Maso, e da qua il serampega su per la colina fin poco sora le pendici a oriente del Salubio, a metri mili ottocento e ottantasie. La terra la è coltivata soprattutto a pomeri e vigne, ma da poco sa sviluppa anche la coltivazione dei piccoli frutti, fraule, gianesi e lampome. Che è anche un po' di attività artigianale. L'unica industria l'è la centrale elettrica dell'Enel, che dal 1939 la sfrutta l'acqua del Maso e quella del Seggio. Nel 1966 Gestana spaventosa alluvion, il Maso, infatti, l'è famoso per le soppiene disastrose. Proprio per questo nel 1848 è sta a costruire il Murazzo d'Escurele, un'opera lunga cento metri per poter difendere il paese da nuovi disastri. Una costruzione artistica e architettonica de gran valor l'è l'accesa parocchiale della Madonna della Neve. Costruìa Telmili 690. La ganaforma ottagonale è sulla facciata principale Ghenporton del Rinascimento. Tanto elegante e ai suoi dolati Ghe donichie con dentro do statue che le raffrigura San Giuseppe e San Joachim. L'interno dell'accesa l'è proprio armonioso. L'altar le de marmo e il ghe fa da corona alla fresco della Madonna della Neve venerà e considerà miracolosa. Ai lati della Madonna che San Giovanni Battista e San Stefano. L'affresco le puveccio dell'accesa e, come che i conta, un parche prima fu sestanta a Bernacolo Campestre. L'accesa, quella veccia, prima del XV secolo, la era dedicata a San Stefano e la si trovava su, insieme al paese. La notte del disdoto settembre del XVII, un battalion dei bersaglieri le sta distrutto sul territorio de Carzan, dove che l'era riuscì a entrare nel tentativo di slargar e sfondar la testa del ponte degli austriaci sul maso. Guerra sta degli accordi segreti che il comando italian l'aveva tolto col tenente sloveno Pivko. In base a questi, con operazione di sorpresa, gli avaria podesto e dovesto far crolar le misere difese austriache e darghe la possibilità italiani di arrivare a Caldonasso, dove che ghera l'imperatore Carlo e dopo fino a Trento. Ma il comando la impartì l'ordine di sospendere l'avanzata, la bloccà il battalion a Carzan, che dopo le sta a cerchià e distrutto da un combattimento tanto sanguinoso par fin casa par casa. Testa operazione così sfortuna, la provoca anche un'inchiesta, è morto tanti soldai, almeno ottocento solo fra i bersalieri e tanti altri gli estai catturai. Il Busana A Calzan ghera un vecchio di nome Matteo che sapeva contare tante storie. Alla sera ghera sempre una fila di tosetti sulla banchetta davanti a sua casa pronti a ascoltar a tochi le so storie. Quando cal'era stufo par parare a casa i tosetti, il gheriseva che del suo volto ghera il Busana, che maniava i tosetti cattivi. Qualche volta il verdiva la porta e si vedeva una scala di sasso a volto tanto oscura che l'andava do sottoterra. Il ne assava solo guardar do e ne fava sentir i versi del famoso Busana. Si era talmente spavorai da sta storia che quando che si passava davanti alla casa non si tirava nianca il fià pa' non farsi sentir e si scampava via come il vento. Tutti i calzani i sapeva che quella casa su per la strada dei figheri era quella di Busana. Ma nessuno i ha mai visto o capì cosa che poteva essere sto Busana. Un fantasma, un spirito, un mostro. Canzone carnevalesca E le bulle di calzano che le crede del cervele e le quattro pignatele ribaltai col culo in su. Al moreron, al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. E le bulle di calzano che le crede del cervele le sion delle macele con la scorza del limon. Al moreron, al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. E le bulle di calzano le se tira sul muretto le se varda del specetto che è il musetto che lega. Al moreron, al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. E le bulle di calzano che le porta il cordon d'oro e lega il muso come un toro e le recita molto. Al moreron, al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. E le bulle di calzano che le porta la bustina e che sotto il che cammina e che bar l'erugazione. Al moreron, al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. E le bulle di calzano che le crede del sessore e la dota che galore le la porta su un piron. Al moreron, al moreron le calzanere, al moreron. Se la sergiola la è serenela, sette volte se la soppela. Le robe fatte par forza non le valna scorsa. Far ed esfar le tutto a lavorare. A cinque anni se è puttei e a ottanta se è ancora qui. Fasoi inumido Se si usa faccio i secchi bisogna prima metterli in moia per almeno 24 ore. Dopo se li li sa di poca acqua e con due tre foglie di alloro. Tenne la padella a parte se mette un po' di olio un po' di butiro un bel po' di sciola e un grande aio tagliare bei fini. Se mette la padella sul fogo lento per soffrire la sciola ma appena che le attacca a biondirse se che aggiunge un cucchiareto di farina bianca e se smisse in presa due o tre girae. Se sguassa con vin bianco e se asa un po' svaporare. A sto punto se tra della padella i fasoi le sai con poca della sua acqua se che mette un pizzo di pever un po' di sale un toccatino di dado e un par di cucchiare di pomodoro fresco ben trittà. Se sguerde tutto e se asa a buggir pian pianin. Ogni tanto bisogna darghen a smissià perché se nota caduto finché se surga l'acqua e se può insaporirli con un tocco di scodega o qualche da detto di pancetta. E buoni compagniai con una fita di polenta e magari anche un scodeguino. di scodeguino di scodega su canale di un Grazie a tutti. Grazie a tutti.